Alberto Righi è il responsabile dell'associazione Patrie, oggi siete qui con un banchetto in via del corso, perché? Siamo qui per raccogliere insieme a tutto il nostro gruppo di Roma, per dare sostegno alla raccolta dei referendum promossi dalla Lega Nord, quindi siamo qui per sensibilizzare i romani su questo tema e contribuire al successo referendario. Perché avete deciso di aderire alle iniziative della Lega Nord? Sono referendum innanzitutto saggi, sono referendum di cui sentivamo il bisogno, a partire da quello per la libertà di pensiero, l'abolizione della legge Fornero, l'abolizione della legge Mancini, sono cose che riteniamo siano utili al popolo italiano. Oggi inaugurate anche la vostra sede, che sarà anche quella della Lega Nord, a Roma, perché? Perché crediamo nel progetto di un'Italia fatta di autonomia e di un'Europa sovrana, fatta di popoli liberi e sovrani, a partire anche dalla capitale d'Italia e dal popolo romano che ha bisogno di ritrovare libertà, anche visto il pessimo sindaco che si ritrova oggi.